All'ombra delle ali tu e noi ti moriamo, contemplando la tua gloria e dimorando nel tuo amore. Ti adoriamo, Signore, ti adoriamo. Alla tua presenza ci sono gioia e sazietà, e quindi voglio star vicino a te. E quindi voglio star vicino a te. E non è facile, io sono pastore da 25 anni, ho due figli, e non è facile per non genitori avere i nostri figli vicino a noi. Perché molte volte già a casa li comandiamo, dopo in chiesa li comandiamo, dopo a scuola li comandiamo. E loro per amore al Signore ci onorano, ci rispettano. Quello che faremo oggi, dice Prima Pietro 5,2 Ameno Pasciate il greci di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza ma volentieri secondo Dio. Non per vile interesse ma di buon animo. Rossa ha curato bambini, adolescenti e adesso giovani. Nella chiesa noi siamo pastori, ma abbiamo bisogno di persone che abbiano anche un cuore pastorale, per pastorare i giovani, i bambini, le donne. Il pastorale non può far tutto, neanche la moglie. E lei so che ha stato curando i bambini da tempo, gli adolescenti e adesso i giovani. E sicuramente continuerà a curare perché Dio ha messo nel suo cuore di collaborare con la pastura dei nostri pastori. Questo non tocca solo a qualcuno, ma tocca a tutti noi di prenderci cura delle persone. E questo lei ha dimostrato negli anni, parlando con la mamma e il papà, che lo ha fatto fedelmente, senza nessun interesse, senza nessun carico, nessuna etichetta. E questo dimostra veramente che si fa non per la vanagloria, non per farsi vedere, ma semplicemente perché c'è nel cuore. Quando questo nasce del cuore, pastore sono andato a visitare questa sorella, sto pregando per lei, tu scopri veramente che questa persona ha capito il regno di Dio. Ciò che ha ricevuto di grazia, che qualcuno si è occupato di lei o di lui quando è venuto il Signore, adesso lei lo fa senza che nessuno lo obblighi. A volte quando si danno delle responsabilità, molta gente lì comincia a lavorare. Non lavora per il cuore che Dio veramente ha toccato, ma lavorano per una responsabilità perché devono farsi vedere. Nel regno di Dio non è così, all'inversa, chi vuole fare il maggiore, il superiore, deve servire tutti. E Rosa ha salito in questi anni, ha amato al Signore e continua a farlo, e vogliamo oggi riconoscerla pregando per lei, chiedendo un'unzione speciale perché questo ministero giovanile, dei bambini, adolescente, che lei prenderà cura, sarà fatto come l'ha fatto fino adesso, ma con un'unzione più grande. Non solo facendolo per i suoi genitori, ma principalmente facendolo per il Signore, per voi e anche per la testimonianza di coloro che verranno a essere curati da lei, giovani, adolescenti, bambini e tutto ciò. E sicuramente lei avrà dei collaboratori, dei monitrici, che anche dovranno collaborare con lei nella pastura. E questo grece non solo deve curarlo il pastore, ma il pastore ha bisogno di collaboratori per curare. Io in chiesa mia ho dei collaboratori che ho dato, tu occupati di cinque famiglie, tu di quattro, tu di sei, tu di giovani, tu delle donne, e così insieme la chiesa sta crescendo, ma loro hanno un cuore pastorale. Non sono pastori, attenti, perché molte volte nelle chiese una persona comincia a curare due o tre persone e dice già sono il pastore. Per essere pastore deve avere la chiamata, l'unzione e anche la preghiera del presbiterio, si dice in italiano i presbiteri, le autorità di pastori che dicono questo qua è il pastore. Ma invece sì possiamo avere questo cuore di pastura, questo cuore come quello che ha Rosa, di collaborare, che nasce naturalmente dal favore della grazia di Dio. Per questo io invito a Rosa a passare qui davanti. Vogliamo pregare? Mettiti qui, guarda me. Questo è come un matrimonio, no? E io voglio domandargli... Abbiamo l'olio lì? E io voglio domandare a Rosa, Rosa tu prometti servire il Signore, se lo hai fatto fin qua veramente col cuore, di farlo ancora di più e meglio? Sì, lo prometti. Prometti anche sottometterti, in questo caso genitori, ma pastori principalmente, per collaborare con loro in tutto il lavoro che tocca? Sì, sempre. E prometti anche crescere in questo, non restare solo qui, ma cercare anche di sviluppare questo ministero per dare gioia al Signore? Sì, è l'ultima. Prometti cercare un fidanzato che collabori con te nel ministero, no? Un curvacchione, neanche un bigro, uno che devi trascinare per venire in chiesa? Prometti stare attento a quello? Sì, sì. Questo è ciò che vogliamo per te. Allora, io ti chiedo di inginocchiarti qui davanti. mettiamoci in piedi, stendiamo le nostre mani per questa ragazza che veramente si consagra al Signore ogni giorno, ma oggi davanti a noi, al Signore. Stendete la vostra mano e pregate Dio. Gloria a Dio, pregate per lei. Signore, nel nome di Gesù, in questa mattina noi te ringraziamo, Padre, per la vita di Rosa. Ti ringraziamo per tutto ciò che ha fatto, ma oggi Dio, davanti a questi testimoni, davanti a te, noi vogliamo ungerla, Signore, per sviluppare in pienezza, Signore, sotto la unzione potente del tuo Spirito Santo, questo ministero giovanile, questo ministero di adolescenti e di bambini, per dichiarare, Signore, che tu la ungerai, Signore, con creatività, con ingegno, Padre, con potenza, con fondamenta, Signore, non solo per curare i giovani qua, ma per curare i giovani della città, per curare i giovani, Signore, adolescenti di Catania, che questo ministero non resti, Signore, chiuso nelle porte delle chiese, ma che lei possa uscire al di fuori, con evangelizzazione, Signore, con libri, Padre, con musica, con teatro, con bimbi, Signore, che lei possa vedere ciò che altri non vedono, che altri gruppi giovanili possano unirsi a lei per trascinare la potenza del tuo Spirito Santo, la parola di Dio verso tutta la gioventù di Catania, Padre, tutto che tu fai, lo fai alla grande, Signore, il tuo Spirito tutto lo versi su noi, senza misura, per questo, in questa mattina, Signore, un'unzione speciale per sviluppare questo ministero giovanile, Signore, un cuore, Padre, grande, rivelazione della tua parola per trovare i messaggi giusti per loro, per scriverli, per farli in radio, in video, in face, quando tutti i mezzi, Signore, possano vedere, Padre, da ciò che tu starai dando a lei per la gioventù, Signore, nel nome di Gesù, noi la consagriamo in questo nuovo tempo a un'unzione, a un legame con lo Spirito Santo, Signore, che li porterà a livelli superiori, per far vedere la tua gloria, la tua potenza, la tua verità, nel nome di Gesù, Signore, preghiamo, ti ringraziamo e diciamo, Amè! 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 Gloria a Gesù! Gloria a Gesù! Gloria a Gesù! Grazie a tutti! Grazie a tutti